Il mondo, sede dei trionfi del Barcellona, il Camp Nou. La partita di oggi è tra Barcellona e Valencia. Fabio Garesse e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Ecco le formazioni delle due squadre. Eccoci, si comincia. Messi. Pallone intercettato, intervento errori che potrebbe metterli nei guai. Luis Suárez! Il difensore ci arriva. Gioca una palla lunga. Orejana. Piqué. È dominato fisicamente. Cerca un compagno. Luis Suárez! E c'è il gol del Barcellona. Un gol splendido di potenza e precisione. Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio. Ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Cerca la profondità. Sulla fascia. E passa. Prosegue nella sua corsa. E va a colpire di testa. Il pallone è dentro. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Rubata palla agli avversari. Sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Piqué. Fase di stallo. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Vuole il lancio pittrante. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Però va la giocata nello spazio. Enzo Perez. La gioca sulla destra. Se ne va. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Luis Suarez. Riceve in posizione interessante. Attenzione. Grande chance. Orejana. Rodrigo. Scodella in avanti. Gaia. Prova la giocata di misura. In ottima posizione. Attenzione al tiro. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Iniesta. Non si fermano più. Ancora segno. Tre gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Hanno sfruttato al meglio il tiro dalla bandita. E arriva alla fine del primo tempo. Dopo il decaldo. Si torna in campo. Si è vista una sola squadra in campo. Ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siamo stati noiosi. Siamo solo a fine primo tempo. Ma come ti piace dire Fabio. Hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. Il parcellona. A Tembele. Il palo salva il portiere. E ha spregato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì. A due passi dal bersaglio. Perde il duello fisico con l'avversario. Guadagna metri. Apertura ben calibrata. Cerchi Roberto. Vuole la profondità. Iniesta. Decide di sfruttare la fascia. Giordi Alba. Pallo intercettato. C'è la palla lunga. In avanti. L'avversario ha avuto la meglio. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Perez. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Ma forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente. Si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Bella palla. Devi approfittarne. Ora Iana. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ora Zaza. Condogbia. Serchi Roberto perde l'equilibrio. Tocco morbido. Faccia a faccia con l'estremo difensore. Chiedono il corner e l'arbitro è d'accordo. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Resto convinto che avrebbe dovuto cambiare prima. Forse ha voluto dare alla squadra la possibilità di reagire sul campo. La reazione non c'è stata e giustamente ha cambiato. Ottima progressione. Palla al piede. Cerca un compagno. Ora Iana. Il Barcellona si avvicina al fischio finale con tre gol di vantaggio. Palla in profondità sulla fascia. Bel gesto tecnico. Colpisce. E da lì poteva sicuramente chiudere il tiro meglio. Due sostituzioni in rapida successione. Costituzione comprensibile. Sembrava molto stanco. Meglio far entrare un giocatore fresco. Mangalla. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Con Dogbia. Rodrigo. Serchi Roberto. Di forza. Cerca la profondità. Sulla fascia. Bella perdura. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cerca il tiro. Rakitic. Grande giocata. C'è una sola squadra in campo. Atteggiamento. Personalità. Forza. Condizione fisica e mentale. Stanno dominando. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato in dubbio. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Il Barcellona era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali. A vinti...